ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato a nork e adventure questo è il nome del modello che andremo a panoramicare oggi no è un elogismo che ho inventato io hanno incominciato a scrivere panoramicare non si dice lo so ho inventato io va bene andiamo a guardare questo orologio qua che in realtà sono due sono due perché ne ho portati due sul canale perché sono simili sono della stessa famiglia sono entrambi 37 mm ma hanno delle differenze che apparentemente sembrano una incongruenza e che poi in realtà ho trovato una spiegazione una spiegazione tutta mia che ce l'ho chiaramente l'ho portato sul canale perché sono carini è carino il modello l'adventure 37 mm è un bel diver compatto perché la scorsa puntata avevo portato lo zodiac da 37 mm e non sono tanti i diver o simili diver da 37 mm da poter proporre agli amici con il polso da signorina non sono tanti quindi quando ho visto il negozio da giacomo questo orologio qua ho deciso di prenderlo e portarlo sul canale per proporre ancora qualcosa da 37 mm è qualcosa che mi piace qualcosa che abbia un certo valore anche tecnico no al di là del prezzo che come sappiamo i prezzi sono sempre a bomba di tutti gli orologi mi li ha messi a disposizione l'amico giacomo come dicevo che titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è parte un ufficiale del canale nonché concessionaria del marchio quindi voi andate là oppure ve li fate spedire perché fanno le spedizioni e vi tratta come dio comanda trattamento di favore per gli amici del canale diciamo così voi basta che chiamate e vi tratta bene ora detto questo vi mostro l'orologio del giorno che questo simpaticissimo omega de vil power reserve con questo suo bel bracciale armadillo con i piccoli secondi a ore 9 con la riserva di carica ad ore 6 che è molto molto comoda e con questo quadrante grigio che è poco visto io quando mi è capitata l'occasione e l'ho preso con questo bracciale qua no però se fosse stato il quadrante nero sicuramente sarei forse stato più contento la leggibilità c'è non è eccezionale ma c'è anche su questo grigio però quello nero forse spacca di più esce fuori di più questo grigio per contro si uniforma tutto l'acciaio lucidissimo che c'è intorno al quadrante e ha un suo perché anche in questo modo è leggermente più raro questo qua cioè si vede meno in giro si vede meno in vendita e voi mi direte ci sarà un motivo no però a me quel motivo lì non mi interessa perché non sono così malizioso come voi che andate a pensare male adesso giriamo la camera diamo uno sguardello a questo simpaticissimo norkane adventure e poi ci vediamo qui come al solito per le considerazioni finali iniziamo la dissertazione proponendo come al solito una panoramica sulle dimensioni dell'orologio diametro cassa 37 mm spessore 11.6 ingombro trasversale al polso 44 mm e interasseanza da 18 mostriamo direttamente la prova indossabilità per evidenziare le proporzioni su di un polso da 19 cm di circonferenza come è già capitato si tratta di una misura che non ritengo adatta a me non tanto perché i 37 mm siano sottodimensionati in assoluto ma semplicemente perché in relazione ad un diver con ghiera vi risultano poco equilibrati all'opposto farò la felicità di chi predilige misure contenute e chi ha un polso di dimensioni inferiori ci troviamo infatti di fronte ad un orologio con un lag to lag veramente ridotto 44 mm rappresentano il diametro cassa di molti altri diver e ritrovarli a definire il solo ingombro trasversale è alquanto indicativo di come sia piccolo questo orologio tra tutte le specifiche occorre poi rimarcare l'esiguo spessore di 11.6 mm altezza che di per sé è un ottimo valore ma che su di un 37 mm va semplicemente a delineare le corrette proporzioni senza volerlo far sembrare ultra sottile a livello stilistico stiamo parlando di una cassa che per la maggior parte del suo sviluppo va a tratteggiare una rappresentazione canonica del tipico diver anche se su scala ridotta quei diver nei quali l'assenza delle spallette di protezione diventa un segno caratteristico e non essendo questo norcane un diver vero e proprio la trovo una scelta ancora più indovinata unica concessione all'estrosità è quella sporgenza ad ore 9 che è ormai una caratteristica identificativa della casa avvitata la cassa in un secondo momento rappresenta anche un motivo di personalizzazione in quanto può essere incisa con un motivo deciso dall'acquirente occorre poi sottolineare un dettaglio piuttosto interessante ossia che la ghiera è alquanto sottile rispetto alle proporzioni solitamente riscontrate di conseguenza il rapporto con la superficie del vetro zaffero fa sì che il quadrante sia leggermente più ampio con conseguente miglioramento della indossabilità al polso e qui occorre aprire una parentesi sulle differenze tra i due modelli l'inserto ghiera del modello verde è in alluminio mentre quella del grigio è in ceramica due differenti soluzioni che mirano a soddisfare differenti esigenze anche di prezzo occorre poi sottolineare che la versione grigia presenta alcuni elementi in oro massiccio la protuberanza laterale la ghiera e la corona di carica sono infatti in oro 18 carati una particolarità che impreziosisce l'orologio rendendolo maggiormente ornamentale rispetto alla versione solo acciaio attenzione che però esiste anche una versione bianca completamente in acciaio ma con ghiera in ceramica per il resto sono completamente identici sia a livello misure che contenuti tecnici tra i quali spiccano ghiera unidirezionale 120 scatti i 100 metri di impermeabilità e la coronavite dettagli che gli consentono di mettere in mostra quello spirito sportivo fino ad ora messo in ombra dalla gentilezza dell'aspetto esteriore precedentemente descritto il vetro zaffero è presente sia sul lato a che sul fondello e quest'ultimo consente di osservare il calibro che muove le lancette ossia il classicissimo sellite sv200 nella sua versione standard ricordiamo che nella gamma alta nord cane utilizza i calibri che nissi mentre quella di entrata utilizza appunto i sellita 28.800 alternanze orari e 26 rubini e 41 ore di riserva di carica l'unica personalizzazione evidente è rappresentata dal rotore di carica marchiato e dorato che va a riprendere le finiture gold presenti in entrambe le versioni ma torniamo al lato a dove troviamo un quadrante che presenta la tipica finitura utilizzata da nord cane ossia delle corte micro scanalature perpendicolari tra loro che vanno a formare un pattern molto particolare una sorta di pavimentazione artificiale capace di riflettere la luce in maniera differente all'interno dello stesso centimetro quadrato una piacevole soluzione che da lontano assume l'aspetto di una trama tessile di pregio tutto questo non va ad inficiare la leggibilità che ritengo essere sufficientemente buona su entrambe le versioni si riescono a distinguere gli elementi in quanto l'ostica finitura guild va a miscelarsi sapientemente con il bianco del superluminova rendendo comprensibile l'intero quadro generale la semplicità delle sfere a matite fa da contraltare alla complessa trama di fondo mentre la pulizia degli indici applicati non risente della leziosa finitura gold presente unico elemento che soffre in quanto a distinguibilità è proprio il logo applicato che essendo completamente dorato riflette la luce eccessivamente rendendolo poco decifrabile e quasi fastidioso da guardare in tutto questo trionfo di smaccata eleganza occorre poi mettere in evidenza il tocco di classe in entrambe le versioni il fondo del datario corrisponde al colore del quadrante apprezzabile insomma ci troviamo di fronte ad un quadrante finemente realizzato che presenta tutte quelle caratteristiche premium necessarie ad inserirsi nella fascia di mercato la quale ambisce non manca neppure una buona resa al buio in quanto tutti gli elementi del quadrante reagiscono positivamente compresa quella sportivissima freccia presente sulla sfera secondi e il minuscolo dot incastonato nell'inserto ghiera per quanto riguarda bracciale ci troviamo di fronte ad una scelta alquanto conservativa non brida certo per originalità di design in quanto è realizzato con i classici tre segmenti separati piuttosto prevedibili e privi di spunto innovativo ottima invece la qualità di costruzione generale con spessori ben dimensionati pernia vite e clasp con regolazione sia spring bars ma integrate all'interno della stessa e quindi invisibili regalano quella pulizia consona ad un orologio di questo tipo possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali tutto lucido è il bracciale tutto lucido non l'ho menzionato durante la panoramica perché volevo proprio parlarne alla fine nemmeno delle finiture della cassa è tutto lucido questo orologio è completamente lucido bracciale cassa corona ghiera nel caso di questo qua in acciaio tutto acciaio lucidato è che potrebbe essere anche un minus infatti lì per lì volevo anche metterlo come minus poi in realtà se io ve l'avessi fatta vedere ne avessi parlato con l'orologio in mano così non avrebbe reso l'idea di come lo sto dicendo adesso perché una volta che lo indossi al polso spara questo lucido qua fa il suo come si dice cioè è un po come questo devil qua che tutto in acciaio lucido così è subito dal botto di vita quando lo guardi uguale questo orologio qua è il suo perché hanno voluto fare tutto lucido per la ricerca dell'eleganza formale così come sono gli accenti guilt dorati degli indici delle sfere vuole proprio essere fine elegante e a questo punto diventa ancora più sensato la versione con l'oro con la corona in oro la ghiera in oro e la protuberanza in oro oro massaggio 18 carati non è pvd di questo gli va dato atto a l'orkane che per fare un orologio in acciaio oro punta alla serie a cioè lo fa veramente in oro non lo fa in pvd come possono farlo certi marchi per poi metterlo in vendita 1500 e 1600 ci sta qua si punta la serie a norkane fa l'oro in acciaio e oro con l'oro massiccio e acciaio oro però con un passo indietro perché di solito l'acciaio oro vede anche il bracciale con la maglia centrale in oro massiccio 18 carati qui è molto più leggero hanno solamente fatto quegli accenti che sono sulla testa dell'orologio e il resto tutto lucido e con poi con l'inserto ghiera in ceramica questo qua è il trionfo della lucidità e dell'eleganza formale veramente orologica al polso spiccano spiccano proprio per sciccheria mettiamola così non sono tool watch non sono tool watch però se c'è un punto debole che in realtà devo assegnare lo devo assegnare all'intera gamma all'intera famiglia adventure da 37 mm perché il prezzo di questo qua con la ghiera in alluminio verde è uguale a quello bianco con la ghiera in ceramica quindi la ghiera in ceramica non incide sul prezzo dell'orologio e questo è quanto strano allora perché non l'avete fatto in ceramica anche qua c'è un po di confusione secondo me è sempre il solito discorso che ho fatto altre volte è che fare le ghiere in ceramica di certi colori diventa difficoltoso trovare lo stesso punto di verde del quadrante e della ghiera diventa difficoltoso probabilmente la butto lì fai 10 ghiere verdi 5 ti vengono di un colore differente e 5 giuste per quel quadrante lì ai 5 50 per cento di scarti la butto lì mentre in altri colori come può essere questo grigio neutro il bianco sei al 90 per cento di pezzi buoni la butto lì altrimenti non si spiegano poi detto questo gli orologi sono anche di qualità cioè c'è qualche punto debole che no la versione da scegliere qual è se sei spartano scegli questo qua verde che è un pochino più maschio è un pochino più da macho macho man se invece c'è una bocca di fuoco come dice rocco si freddi che può sparare del soldo e allora può scegliere anche questo qua in in acciaio e oro che è più chic è veramente più vistoso più costoso e secondo me è anche adatto può essere adatto anche al agli amici alle amiche che guardano il canale cioè questa questa collezione ventur a adventure può essere adatta è unisex sia agli uomini che alle donne ci sono certe versioni con quadrante madre perla con i brillantini quelle sono veramente più fini ed eleganti e sono più adatte a persone fini ed eleganti che possono essere le signore oppure gli ometti fini ed eleganti come per intenderci comunque l'orologio promosso è un 37 mm che non io me lo vedo sul posto me lo vedo piccolo poi guardo le fotografie dico mi sta bene quindi è sempre un po il solito discorso di indecisione secondo me è troppo piccolo comunque per me parà contenti quelli che amano il downsize che hanno il polsino no il polso piccolino sicuramente veste un pochino più grande rispetto alla zodiac 69 1 da 37 che ho recensito ultimamente veste un pochino di più un pochino più grande probabilmente per il fatto che la ghiera è più sottile il quadrante un po più largo e ci sta tutto gli orologi sono promossi sono promossini al di là del prezzo ragazzi che gli orologi costano tutti tanto altro da dire non avrei punti i punti positivi il punto positivo è quello della clasp che c'ha le spring bar interne per la regolazione quindi non vedi i forellini esterni no fa tutto da non è automatica ma è nascosta si mimetizza bene tutto insomma sono oggi fatti per la pulizia di linee proprio per la pulizia di linee per per la scintillare per la luccicanza diciamo così possono piacere possono non piacere a me non me ne viene niente io ve li ho fatti vedere come diceva l'amico no e poi dicete voi gli ingredienti sono lì le foto sono lì la descrizione è lì e fate voi a me cioè che mi frega io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video gli orologi il presentatore gli occhiali del presentatore e i guanti del presentatore adesso vado a vedere i gattini su instagram quindi non datemi noia e ci vediamo al più presto dai praticamente quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love